Il governo nazionale fissa 75 centesimi prezzo delle mascherine FFP2, intanto salgono i contagi Lungo la penisola è inserata anche la decisione sul rientro a scuola Dai dati dell'Inps si evince una sensibile diminuzione delle ore di cassa integrazione autorizzate in questo ultimo anno Dove si era registrata una crescita delle domande Sono partite le richieste di indennizi alle imprese agricole non coperte da assicurazioni per i danni inferti alle campagne Dalla scarsità di pioggia della scorsa primavera Il campo basso calcio cerca dal mercato uno più innesti per migliorare la squadra di Mirko Cudini Sono ripresi gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di Lega Pro Buongiorno a tutti, un caro saluto e ben ritrovati con l'informazione del giorno del telegiornale di TLT E continua l'aumento dei contagi Campobasso e Termoli I centri più colpiti intanto dalla capitale è stato fissato il prezzo per le mascherine FFP2 a 75 centesimi Ma andiamo a vedere nel dettaglio Sul tavolo del Consiglio dei Ministri in queste ore è l'obbligo del Super Green Pass per i lavoratori pubblici e privati A seguito della nuova variante Omicron Intanto, tracciando un primo bilancio a seguito di queste vacanze natalizie giunte ormai al termine Emerge di giorno in giorno l'aumento dei contagi lungo la penisola Molte le regioni passate in zona gialla In Molise situazione da tenere sotto controllo ma per il momento ancora stabile I centri più colpiti sono Campobasso e Termoli Sale il tasso di ospedalizzazioni e anche il cardarelli di Contrada Tappino torna a riempirsi Dalla capitale, novità in queste ore anche per il prezzo delle mascherine FFP2 Ormai indispensabili per accedere in quasi tutti i luoghi pubblici al chiuso Il governo ha raggiunto l'accordo con le farmacie per la vendita delle stesse al prezzo calmerato di 75 centesimi L'accordo con Federpharma, Assofarm e Farmacie Unite è stato raggiunto dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliolo D'intesa con il Ministero della Salute e l'Ordine dei Farmacisti Il prezzo per il Codacons è corretto, ora occorre però sanzionare chi negli ultimi giorni ha realizzato speculazioni vendendo le mascherine a prezzi rincarati Approfittando dell'esigenza dei consumatori di dotarsi di FFP2 per accedere ai mezzi pubblici L'associazione ha poi presentato in merito un esposto a 140 procure della Repubblica di tutta Italia Chiedendo alle magistrature locali di aprire indagini sul territorio in merito alla questione Sfiora il 30% il tasso di positività al Covid in Molise Su 772 tamponi processati nelle scorse ore sono emersi 228 nuovi casi I ricoverati all'ospedale Cardarelli di Contradata Pino restano invece 23 e 21 in malattie infettive, 2 in terapia intensiva, 10 non erano vaccinati 8 pazienti hanno invece 2 dosi mentre 5 ne hanno 3 L'aggiornamento deciso dal Ministero della Salute relativo alle misure della quarantena, dell'isolamento e della validità dei tamponi molecolari antigenici Per cercare di bloccare il contagio, ma andiamo a vedere come Il Ministero della Salute ha stabilito nuove regole anti-Covid che valgono per tutti Tranne per gli operatori sanitari per i quali sono e saranno previsti altri percorsi di tutela Nello specifico sono queste Chi è stato a contatto stretto con un positivo e non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale primario della prima e seconda dose Oppure lo ha completato da meno di 14 giorni, rimane in quarantena per 10 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 10 giorni Se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo Chi invece è stato ugualmente a contatto stretto con un positivo e però ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni Ed è in possesso di un green pass in corso di validità e o asintomatico Resta in quarantena per 5 giorni, liberandosi dalla stessa al termine dei 5 giorni Con un tampone molecolare o un tampone antigenico risultante negativo Chi ancora è stato in contatto stretto di un positivo ed abbia ricevuto la terza dose O abbia completato il ciclo primario da più di 14 giorni e non più di 120 giorni Oppure sia guarito da infezione nei 120 giorni precedenti ed è asintomatico Non si applica la quarantena ma deve indossare la mascherina FFP2 Per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione ad un caso positivo Altra novità è quella che prevede per la diagnosi dell'infezione e per i successivi controlli nel soggetto Risultato positivo nonché per la sorveglianza dei contatti stretti ad alto dischio È possibile far ricorso anche al test rapido antigenico Quello eseguito presso le farmacie ed i laboratori di analisi cliniche presenti ed autorizzati sul territorio regionale Nonché dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta Saranno ritenuti validi i soli tamponi antigenici trasmessi al sistema Tessera sanitaria Parliamo adesso di scuola Non ci sarà nessuno slittamento per il rientro Gli studenti torneranno in classe tra il 7 e il 10 di gennaio Così come previsto la quarta ondata della pandemia non accenna a indebolirsi Ma il governo nazionale non cambia la linea prevista e conferma il calendario scolastico Ci saranno però presumibilmente alcune modifiche per quarantene e distinzioni tra vaccini e non nelle classi Modifiche che verranno apportate a termine della giornata di oggi nella capitale Durante la conferenza delle regioni Preoccupano però al momento i dati che riguardano i casi di positività tra i più piccoli Quelli della fascia d'età cioè che per ultima hanno cominciato il ciclo vaccinale A causa dell'aumento dei contagi da coronavirus L'amministrazione comunale di Termoli ha organizzato uno screening epidemiologico gratuito Prima del rientro in classe Test rapidi in modalità drive-in Domenica prossima 9 gennaio dalle 8 alle 18 Nella sede della misericordia di Termoli in via Biferno Intanto proprio nella città adriatica si contano al momento 360 positivi Seguono Campobasso con 330 casi e Disernia invece con 196 Cambiamo l'argomento dai dati dell'Inps del Molise Si evince una sensibile diminuzione delle ore di cassa integrazione autorizzate in questo ultimo anno Rispetto al 2020 dove si era invece registrata una crescita davvero vertiginosa delle domande Ma andiamo a vedere nel dettaglio I dati dell'Inps del Molise Dopo aver sottolineato la crescita vertiginosa nel 2020 Delle domande delle conseguenti risorse destinate alla cassa integrazione ordinaria A quella in deroga e al fondo di integrazione salariale Oggi raccontano riguardo al 2021 di una sensibile riduzione delle ore autorizzate dall'Istituto regionale Per gli strumenti di integrazione salariale legati al Covid E questo è il segno importante di una lieve ripresa del tessuto produttivo molisano Travolto dalla crisi economica dovuta e legata alla pandemia Ne parla il Presidente del Comitato regionale dell'Inps Molise Andrea Cutillo Prendendo a riferimento i numeri delle domande di sostegno a reddito Presentate dalle imprese d'aziende Numeri forniti dalla direzione regionale dell'Istituto di Previdenza Alla fine del 2021, afferma il Presidente, il numero delle domande presentate complessivamente Dalle aziende molisane per le diverse forme di ausilio è stato pari a 10.280 Rispetto alle quasi 15.500 del 2020 Mentre le ore autorizzate al pagamento da parte dell'Inps Sempre nel 2021 sono state poco meno di 8 milioni rispetto alle 11.500.000 del 2020 Anche l'ammontare dei pagamenti ad oggi disponibili solo per la cassa integrazione interoga Che ricordo è accessibile da parte delle piccole aziende Segna una notevole riduzione degli importi Passando da 15.800.000 euro del 2020 a 10.000.000 del 2021 Parliamo adesso dell'assegno unico da marzo 2022 Novità in busta paga per oltre 30.000 famiglie molisane 20.000 se ne contano circa solo a Campobasso e 8.000 a Isernia Il beneficio riguarda le categorie dei lavoratori dipendenti Sia pubblici che privati, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati Sarà inoltre l'Inps a liquidare direttamente tramite bonifico gli importi dovuti a ciascun nucleo familiare Per ogni figlio minore saranno riconosciuti da 50 fino a 175 euro mensili Con maggiorazioni in caso di disabilità famiglie con più di due figli Madri con meno di 21 anni o genitori entrambi lavoratori dipendenti Verranno inoltre riconosciuti degli importi seppur in misura ridotta per i figli dai 19 fino ai 21 anni di età Da oggi i molisani che hanno necessità di acquisire i dati dei rapporti intercorrenti con poste italiane relativi all'anno 2020 E necessari per la presentazione dell'attestazione dell'ISE per il 2022 Possono utilizzare comodamente anche la modalità online Un servizio semplice che va a perfezionare un rapporto proficuo con poste e la sua clientela Ci spostiamo adesso a Campobasso dove il Comune ha risposto con profitto al bando del Ministero dell'Intervento sulla rigenerazione urbana In arrivo oltre 18 milioni di euro Ma andiamo a vedere Un nuovo e importante finanziamento di oltre 18 milioni di euro per il Comune di Campobasso Che ha risposto con profitto al bando del Ministero dell'Interno per investimenti in progetti di rigenerazione urbana Obiettivo la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale Nonché il miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale Abbiamo ottenuto, ha spiegato il Sindaco del Capoluogo Roberto Gravina Più di 10 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio di relazione in Piazza della Repubblica Che ha come scopo principale la messa in sicurezza della viabilità cittadina Mediante la demolizione della scuola secondaria di primo grado Dovidio E la ricostruzione con integrazione di uffici comunali e parcheggio pubblico Con contestuale realizzazione di un accesso dal centro alla tangenziale Ovest Quasi 7 milioni di euro, ha aggiunto il primo cittadino, sono destinati a demolizione e ricostruzione Del polo scolastico Montini in via Scarano A Piazzale Palatucci, vicino all'ex mattatoio, invece, verrà costruita la futura biblioteca comunale Verranno realizzati i parcheggi Inoltre, con 400 mila euro, si potrebbe completare anche il Parco della Musica in via Carducci Mentre non mancherà la manutenzione straordinaria di un immobile sequestrato alle organizzazioni mafiose In via Santa Cristina e che finalmente, dopo circa 15 anni di attesa Potrà essere opportunamente ristrutturato e addibito a finalità pubbliche Proroga dell'ordinanza da parte del sindaco di Campobasso Roberto Gravina Sulla limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande E ogni genere alimentare, i pubblici esercizi dovranno adesso osservare la chiusura entro e non oltre le due Con la riapertura a partire dalle 4.30 del mattino Per ragioni di sicurezza e decoro, vige ancora il divieto di vendita di contenitori di vetro Di bevande alcoliche e analcoliche da sporto tra le 23 e le 6 Ammettendo la vendita da sporto solo in bicchieri di plastica Cambiamo adesso argomento La DR di Macchia di Sernia incrementa le proprie quote sul mercato automobilistico internazionale Con due nuovi modelli, Evo 7 e DR 7 L'espansione industriale del marchio molisano è previsto soprattutto per la seconda metà di questo nuovo anno Sono previsti i contratti in Francia, Spagna, Germania e nell'Europa orientale Gli incrementi di fatturato per il gruppo industriale Isernino sono stati in crescita del 140% nel 2021 Rispetto all'anno precedente, poco meno di 8.400 le auto vendute nel 2021 Ieri e oggi in Italia e in alcune regioni sono già partiti saldi invernali Mentre in Molise e in altre parti della penisola si inizia da domani Secondo le stime ogni persona spenderà all'incirca fino a 200 euro a testa Tra crisi economica e sanitaria i negozi del posto puntano su questo periodo di scontistica Per cercare di guadagnare dopo il duro anno e mezzo di restrizioni Sul tavolo delle offerte cresce la richiesta di vestiario e calzature Ma anche di prodotti culinari made in Italy Anche per questo anno non cambiano le regole e le informazioni per evitare spese inutili o sconsiderate I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale O di moda ed essere suscettibili di notevole depreciamento se non venduti Entro un certo periodo di tempo occorre mantenere la distanza di almeno un metro Tra i clienti in attesa di entrare all'interno del negozio e di indossare la mascherina Anche quando si entra all'interno del camerino di prova Sono partite dal Molise le richieste di indennizia alle imprese agricole Non coperte dalle assicurazioni per i danni inferti alle campagne Dalla scarsità di piogge dalla primavera scorsa Andiamo a vedere nel dettaglio Lo scorso mese di novembre è stato particolarmente piovoso Ma in precedenza la scarsità di precipitazioni ha influito negativamente sui raccolti nelle campagne E l'ulteriore dimostrazione di repentini e pericolosi cambiamenti climatici Ai quali probabilmente dovremmo abituarci anche nei prossimi decenni Se i governi non interverranno con decisione per fermare l'innalzamento climatico Provocato dalle attività industriali e dall'inquinamento atmosferico Un quarto circa dei comuni che ricadono sul territorio della provincia di Campobasso Ha fatto da tempo richiesta all'assessorato regionale all'agricoltura Di danni cospicui inferti dalla siccità sulle campagne La penuria di acqua piovana a metà del 2021 ha ridotto fortemente i raccolti di frutta, cereali e ortaggi Con la conseguenza di rincari dei prezzi nei mercati per le tasche dei consumatori Da Torella, Dururi, da Pietracatella, Portocannone, da Petrella, Guardialfiera Le amministrazioni locali per il tramite della regione molise hanno inviato una richiesta di indennizia ai coltivatori Pari a 3 milioni e 400 mila euro Richieste di aiuto da parte di 22 comuni Sottoscritte dalle organizzazioni sindacali per le imprese agricole Non coperte dalle assicurazioni Le domande sono state indirizzate al governo Nei sostegni economici previsti all'interno del Fondo di Solidarietà Nazionale L'iter è stato avviato Non resta che sperare nel loro accoglimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole E restiamo sempre in tema di agricoltura Riparte la stagione delle semine nelle campagne Ma resta ancora l'incognita cinghiali Ancora troppi ungulati sul territorio necessità così di prolungare il periodo venatorio Ma andiamo a vedere Dopo un 2021 che ha certificato il cambiamento climatico in atto Caratterizzato da siccità, eventi meteorologici estremi, bombe d'acqua, incendi e alluvioni Riparte, seppur in ritardo, la stagione delle semine Si aveva così a conclusione un anno del tutto anomalo in Italia come anche in Molise Resta però la paura per la presenza incondizionata dei cinghiali Nonostante l'attività venatoria di questi mesi è ancora emergenza ungulati Sia per le campagne sia per la salute degli agricoltori In questo quadro di certo non rassicurante Si inserisce l'avvio delle semine autunnali Anche se peraltro minacciate dalle calamità rappresentate dall'emergenza selvatici Una calamità che in regione non si è mai arrestata Ma al contrario ha continuato a creare ingenti danni Alle imprese agricole e zootecniche Che sono ormai alle prese anche con la crisi causata dal coronavirus Ma se per i cambiamenti climatici non si possono trovare soluzioni a breve termine Per il problema cinghiali la Confederazione degli agricoltori si fa sentire Chiede un cambiamento di passo a livello nazionale oltre che regionale Verso un problema che è diventato una vera e propria piaga per gli imprenditori locali A tal proposito è stato chiesto alle istituzioni preposte L'assessore dell'agricoltura Nicola Cavaliere Rapproroga il 31 gennaio del 2022 dell'attività venatoria Al momento l'unica arma contro tale minaccia E andiamo quindi a vedere le previsioni del meteo La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve Specialisti delle batterie e degli accumulatori E in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo Cielo prevalentemente soleggiato oggi sul Molise Dalla sera debole nuvolosità in transito sulla regione Temperature odierne comprese tra la minima di 8 gradi a Campobasso E i 14 gradi di Termoli Ventilazione moderata sud-occidentale Mosso il mare Adriatico Domattina cielo variabile sulle due province Valori atmosferici in leggero aumento Correnti meridionali Apriamo la nostra pagina sportiva parlando del calcio Il Campobasso cerca dal mercato uno più innesti per migliorare la squadra del tecnico Mirko Cudini Nel frattempo ripresi anche gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di Lega Pro Il Campobasso ha ripreso gli allenamenti sul rettangolo di gioco di vinchiaturo In vista della ripresa del torneo di Serie C contro i laziali del Monterosi al nuovo Romagnoli Domenica 16 Nel frattempo ha aperto la sessione invernale del calcio mercato Le squadre si stanno muovendo per migliorare se possibile le rispettive rose Stesso lavoro da parte del club rosso-blu del presidente Mario Gesuè Il Sodalizio Molisano non vuole lasciare nulla di intentato per restare nel calcio professionistico così a lungo inseguito Proprio il Campobasso e i Viterbesi del Monterosi assieme alla Paganese Sono ai margini della zona pericolosa del girone meridionale della Serie C Tutte e tre le squadre sono appaiate a 21 punti dopo 20 turni di campionato I lupi hanno delle tre formazioni, sì il miglior attacco, 25 reti realizzate Ma anche la peggior difesa, 37 subite Che tra l'altro la retroguardia più perforata dell'intero raggruppamento sud Al lavoro mister Cudini con il direttore sportivo De Angelis Per cercare dal mercato possibili scambi di atleti Senza ricorrere ad altre risorse finanziarie Il periodo attuale del paese non lo permetterebbe neanche I dubbi si incentrano sulla 24enne Ala Napoletana Michele Emmausso, ex Lecco e Catania Autore fin qui di due sole marcature Nel club di Contrada Selvapiana si ragiona anche su un puntello nel reparto arretrato Quello che ha mostrato finora le maggiori crepe In un girone molto competitivo verso l'alto come quest'anno Con formazioni di rango che hanno disputato la Serie A nelle passate stagioni Vedi Bari, Palermo, Catania, Messina, Foggia e Avellino Per il campo basso l'obiettivo dichiarato non può che essere quello della salvezza anticipata Nei campionati regionali di calcio si prosegue al momento seguendo i calendari Ritorno in campo nel fine settimana dell'8 e 9 gennaio Per la prima di ritorno nei tornei di eccellenza e promozione Questo quanto decisò oggi in riunione tra il commissario della Lega Nazionale di Lettanti Feder Calcio Giancarlo Abete e i presidenti dei comitati regionali aderenti alla Feder Calcio In ogni caso un nuovo punto della situazione sarà in programma nella giornata di dopodomani Causa ai contagi in Molise fino ad ora sono state rinviate solo poche partite E con questa notizia di sport termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle edizioni della sera Arrivederci Grazie